Italo Calvino ha detto che le fiabe sono vere, sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna, soprattutto per la parte di vita che è appunto il farsi di un destino. Voi siete d'accordo? No, perché le fiabe non sono vere, ma illusorie, appunto perché sono il catalogo dei destini umani che nella realtà sono illusori. Perché i destini umani sono illusori? Perché tutti gli eventi umani per la legge sono eventi vibratori, il cui solo fine è quello di creare evoluzione nell'intimo dell'individuo che li vive. Perciò le fiabe, i romanzi, i racconti, i film, tutto ciò che racconta la vita con l'occhio dell'uomo, per la legge, sono le illusioni delle illusioni.